Non guidare come me, capito? No, no, non guidare come me! California, stiamo arrivando! Dai, Noco, stiamo arrivando! Oh, mi ci voleva! Pronto? Parlo con Saetta McQueen, l'auto da corsa più veloce del mondo! Parlo con Harvey, il miglior agente del mondo? Ed è un tale onore essere il tuo agente che quasi mi dispiace prendere il 10% dei tuoi guadagni e del merchandising e dei diritti accessori per l'eternità. Comunque, che corsa è, campione? Io non l'ho vista, ma so che sei stato grande. Ah, grazie, Arv. Senti, ti danno 20 biglietti gratis per la corsa dello Sparigio in California. Li darò ai tuoi amici. Sparami i nomi. Ci penserà Arv a fare tutto, d'accordo, piccolo? Certo, amici. Sì, c'è... Capisco, mister Popolarità, con tutti gli amici che hai è difficile. Ehi, quando arrivi in città, tieniti un po' libero per il tuo migliore amico. Devi venire a cena con me. Sì, sì, con molto piacere, dobbiamo proprio... Eh, devo scappare, ragazzo. Fammi sapere come va, passo e chiudo. Cosa? Un minivan? Ehi, Mac, sei nella corsia lenta e stessami qui che stai trasportando. Solo un breve sonnellino, ragazzo. Senti, Mac, devo arrivare prima di Cic e lavorarmi quelli della data. Quanti camion che dormono. Ehi, ragazzo, non so mica se ce la faccio. Ho sì che ce la fai, Mac. Senti, ti aiuto io. Resterò sveglio con te. Tutta la notte? Tutta la notte.